ciao poveri sto scherzando sto scherzando prima di tutto mi presento perché credo e spero che questo video possa essere visto da più persone non so quanti ancora abbiano la necessità di creare un home gym questo video ripensandoci avrei dovuto farlo due anni fa a parte gli scherzi raga per chi non mi conoscesse sono luca e sono un coach barra atleta di calisthenics più coach che atleta in descrizione trovate il link al mio sito web se volete più informazioni e volete essere seguiti da me trovate tutto sul sito allora perché siete qui perché volete un metodo intelligente per risparmiare e creare la vostra home gym di tutto rispetto però questo video può esservi anche utile se volete magari pagarvi l'abbonamento in palestra e non avete magari troppi soldi insomma oggi vi spiego come raccimolare un gruzzoletto per potervi permettere qualche attrezzatura in più o l'abbonamento in palestra seguitemi passo passo perché vi dirò prima ciò che io vi consiglio di acquistare ovvero gli attrezzi fondamentali per per una home gym a mio parere e poi vi dirò come ottenerli gratuitamente o quasi dipende poi da quanto spendete cercherò di fare un discorso generale perché io faccio calisthenics magari tu che mi stai guardando fai calisthenics ma qualcun altro non fa calisthenics e ha bisogno di qualche attrezzatura un po più diversa da bodybuilding da powerlifting quello che è quindi adesso sigla e iniziamo subito bene raga parliamo adesso dei must have che secondo me deve avere un home gym ovvero tutti quegli attrezzi fondamentali di cui abbiamo bisogno per allenarci parliamo di home gym quindi non parliamo di avere tutto lo spazio del mondo disponibile da mettere macchinari e cose strane quindi ciò che vi consiglio io ad avere assolutamente in primis una sbarra per le trazioni sappiamo quanto le trazioni siano un esercizio fondamentale per per l'allenamento e ce ne sono veramente tantissime a pressione fissate al muro degli alf rec con la sbarra dipende sempre dalle vostre possibilità da ciò che avete se volete allenare il mascol up se non volete allenare il mascol up ciò che volete fare allenare le zavorre o meno nel caso volesse un consiglio sulla sbarra ad acquistare scrivetemelo nei commenti e io vi risponderò tranquillamente a in descrizione trovate il mio link vulcano fitness dove potete acquistare attrezzatura bilancieri dischi col mio codice sconto zocco avrete il 10 per cento di sconto e in più vi lancio anche il mio shop di amazon dove sono andato a selezionare qualche prodottino che potete comprare per le vostre home gym economiche stesso discorso si può fare per le parallele quindi per fare i dip anche qui esercizio veramente fondamentale a mio parere al pari della panca piana che sicuramente richiede molto più attrezzatura invece il dip basano due semplici parallele poi eventuali zavorre fondamentali sono anche gli elastici sia per scaldarsi molto molto utili ma anche per poi fare esercizi come può essere un curl con l'elastico sia le look band quindi quelle chiuse circolari oppure gli elastici quelle con le maniglie sono veramente ottimi si può regolare tantissimo l'intensità quindi devo dire veramente un ottimo attrezzo da avere io li uso molto per allenare la planche per scaricare appunto il peso e potermi permettere appunto di allenare la planche poi ovviamente raga dischi ci devono essere indipendentemente da ciò che fate prima o poi non basterà più l'allenamento corpo libero o gli esercizi appunto corpo libero quindi quello che vi consiglio io e di acquistare un bilanciere e dei dischi qui sicuramente partiranno un po di soldi ma sicuramente ne vale la pena soprattutto per l'allenamento delle gambe che sappiamo che a corpo libero è abbastanza limitato sì si possono fare natural leg extension natural leg curl però insomma un buono squat difficile da sostituire e qui raga non si scappa un bilanciere poco costoso sicuramente vi permetterà di fare poco quindi valutate bene la spesa magari non andate proprio sul più economico tenetevi su un range che vi permette appunto di non spendere troppo e appunto potervi allenare dipende anche molto dai carichi che poi andate a fare ovviamente quindi valutate bene gli acquisti come in qualsiasi cosa d'altronde un altro must have assoluto sono gli anelli questi possono essere anche sostitutivi della sbarra in alcuni esercizi potete appenderli veramente ovunque potete portarli in viaggio gli consiglio tanto ai miei allievi di comprare gli anelli e di tenerseli sempre magari quando vanno in vacanza nella valigia anche se sei in vacanza ti vuoi allenare quei 10-15 minuti gli appendi a un albero e ti alleni si possono fare milioni di esercizi quindi assolutamente consigliatissimi e poi ci sono tutti quegli attrezzi diciamo di contorno che volendo si può si possono acquistare per arricchire la propria un gym nel caso facciate punk squat sicuramente un rack o comunque un al frac vi consiglio di dare un'occhiata al link vulcano fitness in descrizione struttura è veramente di altissima qualità poi vabbè un tappetino se volete fare addome uno specchio che ci sta sempre bene per controllare i progressi e pedana da stacco per chi dovesse fare stacco e magari a casa serve se non volete finire dal vicino di sotto nel caso voi siate in un appartamento e non al primo piano insomma questo è quello che vi consiglio io di acquistare ecco se volete consigliare voi qualcosa scrivetelo nei commenti magari mi sono dimenticato adesso mi sfugge che cosa potrebbe servire in un home gym ma questo dovrebbe essere insomma in linea generale tutto ciò che può servire ovviamente se poi uno ha la possibilità di comprare un multi power macchinari allora lì non ha senso che guardi questo video ma veniamo al tema principale quello per cui hai sicuramente cliccato su questo video vuoi sapere come ottenere e poter fare la tua home gym gratuita te lo dico io nel mondo odierno esistono le banche online che sono veramente vantaggiosissime per i loro costi e commissioni a zero io ho tantissime carte e ho riscontrato solo vantaggi nel averne così tante perché posso gestire i miei soldi sui più conti e avere un conto dedicato a ogni cosa ognuna di queste carte o quasi fornisce dei bonus alla registrazione il cosiddetto programma invita un amico e con un deposito minimo che di solito è anche 5 euro ma a volte anche un euro potete avere diritto a un bonus in denaro quindi che cosa dovete fare andate in descrizione vi ho messo un po di link un po di codici invita un amico e qualche conto anche per minorenni seguite le istruzioni registratevi e ottenete il bonus potrebbe essere che qualche bonus che vi ho messo in descrizione non funzioni perché non durano tantissimo quindi affrettatevi a farlo perché potrebbero non essere più disponibili se avete amici con cui vi allenate volete costruire l'home gym insieme fatelo fare anche loro unendo i soldi sicuramente riuscirete a raccimolare un gruzzoletto che vi permetterà di acquistare attrezzature per le vostre home gym questo metodo in realtà funziona per tutto per acquistare quello che volete perché alla fine ricevete un bonus in denaro però sicuramente investire in un home gym può essere la soluzione vantaggiosa ovviamente per trasparenza vi dico che anch'io riceverò una commissione ma ovviamente a voi non cambierà nulla ci guadagneremo entrambi e io potrò arricchire la mia home gym no scherzo la mia è abbastanza completa non ho bisogno di nient'altro ma mi sembra al minimo ricevere una commissione per avervi fatto scoprire questo metodo infallibile anche per quello che vi dico che con lo stesso metodo potete effettivamente pagarvi l'abbonamento in palestra se effettuate solo la registrazione ottenete solo voi il bonus non otterrete questa cifra astronomica ecco però potete utilizzare anche voi il mio metodo quindi andate sull'app dopo esservi registrati e invitate degli amici è veramente semplicissimo ragazzi ottenere i bonus è super facile una volta si otteneva più bonus quando l'online banking non era così sviluppato potete anche informarvi trovare altre banche che fanno questo tipo di programma appunto e piano piano raggiungerete il vostro traguardo ovviamente nessuno vi regala nulla quindi dovete un po sbattervi ecco ovviamente non spendete soldi incavolate e potrete permettervi l'online grazie ancora tutti per aver visto il video raga in descrizione trovate tantissimi link utili mai come oggi lasciate un bel mi piace e un commento per far capire all'algoritmo di youtube che questo è un video interessante condividetelo con i vostri amici che magari vorrebbero farsi un home gym o che volete fare l'home gym insieme l'unione fa la forza e dateci dentro allenatevi è bello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti